No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, pitorina Pitorina, ma andate Diablo Diablo Eh, sono mio palante A tu, mi, la mano Eh, Dianne Eh, pitorina Diablo, loco, si no Diablo, loco, si no Ti stai pudiendo, loco no es e ris che io voglio parlare con te oye, oye, che ti devo dire a te io non ti meto la mano perché ho con me la mia, oye l'uomo qui qui non lo evite non lo evite mi mi Democratico il Arturo a chi questo è un po' il rio La mia cultura è una cosa che è stato da fare Cosa da fare per te oppure Per me prendere Tutto il prego, tu sai? Alla ora Ok Don't let me prendere la mano Venite con lei Dile a lei Te lo che ti vuole a te Sì Si Sì Sì Sigue più violandolo! Sigue più violandolo! Sigue più violandolo a la mujer! Sono bellissimi! Come dicevi a te controlli di te metti a tre pali! Che caro! Io voglio oire un video che lei fa tieni qui! Oh mio mio! Però è che gordinato! Che barriga più sexy! Per questo è che sali in tutte le redes. Nel video del Alpha, del Rochi. Che lo chas! Oh mio 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 mio! Il cortito sexy! In le redes! Loco, se tu non vuoi che io te... Che? Lo plumo che tu hai, vete! No, però dame se ti faccio cortito! Que pasa? Cortito, però dame se ti faccio, mi amor! Tu stiamo famoso in le redes! Ese è un chino per là! Dime a vos! Que pasa? En serio cortito? Dime! Tu ne viste baila in le redes? Si! O barri un chino, a ver! Ay! Pues sacate la barriquita! Que hay que son! Ay! No! Ese tu è per là! 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 Va 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 va! Dejame moverte la barriquita! Ehi! Ve mi amore! Florina! Ese tu è per là! Ese è un beletto! Ese tu è per là! Ehi! 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 Florina! Florina! Quindi sono hai per là! Si ho茶itan il campsite! Io te mettere meno a là! Ehi! 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 C'è che super rotato, te Tokyo! Pu졌ano quando vengas di nuovo! no che calor un gran gatto un gatto è molto difficile io andavo allì con il gottito sexy e il gottito sexy fui bailando non ho chiesto di andare e di attraversare il gatto sexy sono i riuscito lo senti sti sti ne voglio sapere io non voglio sapere di me sapere un azaleo larenta è challenging a dove io ho guardi per te! Ese fatale mi andami buscando un comparo per prendermi la cabeza per te! tutto questo mi ha fatto per te per la culpa tua! E io che ti avrei avuto a Jennifer Lopez che stava parlando con ella per Whatsapp Non mi consiga a nessuno, io preferisco quedarme così solo come Tore! Sin ella e sin nessuno E ora mi penso a andare a Santiago a procurarmi una per alla! Tu lo quedo malo agradecido, tu non lo agradece Si, io sono malo agradecido, hai una pa solo e non se lo que tu le hiciste Adios 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 Porque tu a la rentre i van a comprar un malito caro Viejo el diablo, viejo explotao Que me importa? Vete me di ahi co? Vete me di ahi Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Aviso con lo que me fai La prima il diablo Esto no lo es lo más ora, fai nerte spettiamo il momento questo è lo che tu hai loco loco, non loco stai muovendo, loco loco, loco, loco loco, di fiolina che cosa tu hai? violina, violina mi hai visto, loco piolina mi hai visto loco, tu hai visto il culo hai questo loco, volveci Vieni a questo ragazzo. La prima tui dove sta? Violina. E' la prima tui? E' la prima tui? Non mi ha parlato di qui, dimmi dove sta la prima tui? Il paio è fuori il cuore! E' la prima tui? 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 Si la乃 Cry nel portico E' la prima tui? E' la prima tui? Idph' alunglio? Buonasera dapp Socioi? E' la prima tui? Vieni dapp才 li? Vieni dappč Vieni dappà Buongiorno, buongiorno. mi piacciono la piccola guarda quando mi mi hallo la piccola nida te amo papi se mi ha regalato ese è mi tigre wow ese rubio che mi ha regalato diolina non lo amate non lo amate non lo amate 2.500 pesos 2.500 pesos i 2.500 pesos e lo va a matar sali di a me ma te cogio va a andare dentro no 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 los 2.500 pesos mio loco ella va a tener que salir si va a ver ay dios sali di a me ma per la carta va a andare dentro le manda a me io non sono venuto qui! . . . . Buongiorno alla per quel clial! Ma deljen dinero audio! Quasi i più legidesi? Cosa? Cosa? Non ho guardo que tro Zaccio, non trovato nulla. với Che tu non fai nessunato loco, io credo che è il l'opera che stava ora mi immagino io credo che è la mia roba che tenia il maldito pazzaro che sto parlando e che pazzaro, non è pazzaro o nà ese è, chi è? il che passò per ora mi vitto tu non hai detto la roba? un pazzaro che mi sentia pa allà non io non ho vitto a nessuno per lì, che passò? la roba che tenia poi... si ese è il loco, preguntele a esa bella ciao, ciao bro ai dios mio la che me salve, dios santo grazie sr. por cubrirme di ese maniaco del predador dios mio, perdì la gorra, sì però non ripeto la gorra e non sentiamo i pari maricato 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 recuerde sonar la ultima campanita de arriba y que dios lo bendiga dios bendiga a todos all, mañana y siempre